Terremoto nell'oceano indiano, l'ONGV segnala un sisma di magnitudo 5.5 avvenuto alle 14 16 minuti e 20 secondi ora locale, ad una profondità di 20 chilometri. L'epicentro è stato localizzato a est dell'isola di Kar Nikobar, capoluogo del distretto delle Nikobare, nel territorio federato delle Andamane e Nikobare, non si segnalano al momento danni a cose o persone.